e noi in questo momento facciamo le pillole pirandelliane qui alla casa di Pirandello facciamo queste pillole pirandelliane dove in qualche modo diamo qualche assaggio per cui si entra in una stanza e si vede un personaggio, un altro, si canta adesso noi vi mostreremo un saggio di questa appunto compagnia di Luna Pazza per cui partiamo, non so cosa succederà al mio 3